Credo che tutti voi sapete la storia bellissima di Giovannino Bosco che in qualche modo questo ragazzo già alla tenerissima età di 9 anni cominciò a capire qual era la sua missione o meglio attraverso quel sogno famoso aveva intuito quale poteva essere la sua missione però la capacità di questo ragazzo di mettersi sempre in gioco di vivere la sua esperienza di panciullo di preadolescente a servizio di altri ragazzi Andrea puoi essere santo lì dove sei come Giovannino che piano piano ha costruito la sua santità passo dopo passo da sello dopo da sello Oh fra sentimi una cosa stasera confermato per le 10 sotto casa tua per andare alla disco Ciao 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 Grazie Grazie Lidovesei Da un nisi Lidovesei